Il video di martedì 27 agosto, a coltella ex marito morto, lei fermata. Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate l'ex marito, 53 anni, al culmine di una lite a Margherita di Savoia, provincia Barletta, Andratrani. I due avrebbero cominciato a litigare in casa, ma il litigio è poi proseguito sulla strada, lei avrebbe colpito l'uomo al collo con una coltellata. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto, la donna è stata fermata. Questa è la famiglia tradizionale della Family Day di Verona e di questi talebani integralisti, islamici, italiani, perché difendono, mitizzano la famiglia tradizionale dove succedono omicidi anche da parte delle donne sugli uomini, non solo sugli uomini sulle donne. Per cui la nuova frontiera e sono le convivenze anche al di fuori dalla famiglia tradizionale, un'alternativa ci deve essere e anche i singoli, l'adduzione ai singoli, cosa che non vuole fare tutti i ragazionari che ci sono, a cominciare Salvini, Di Maio, tutti questi nuovi integralisti islamici che mitizzano la famiglia tradizionale con questi risultati in omicidi al giorno anche da parte delle donne. Una vergogna, vogliono solo fare le riduzioni parlamentari per imporre la famiglia tradizionale e portare il disastro e portare il disastro all'Italia. Di Maio, Salvini, Di Battista, Fraccaro, Buonafede, vogliono fare le riduzioni parlamentari, il nuovo P2 di Ciogelli, dimissioni.